Dentro nella ripresa Mattia Mustacchio si è accesa la luce No, oggi quello che era importante era fare una buona gara ma anche un buon allenamento nel senso che arriviamo da dei giorni dove abbiamo caricato, oggi appunto era l'ultimo giorno in cui dovevamo caricare e l'importante era interpretarlo nel modo giusto e così abbiamo fatto tutti Hai dimostrato però di stare davvero molto molto bene No, oddio, sì, sto bene, l'infortunio è passato però ho ancora molto da lavorare per tornare ad essere al top della forma Mentalmente però nella qualità delle giocate hai dato un'ottima dimostrazione oggi, al di là dell'avversario Sì, durante questa amichevole è anche importante provare poi quello che l'allenatore ci chiede e appunto per questo motivo oggi sono uscite bene ma insomma mi auguro che escono bene anche in campionato Andiamo un po' extra campo, Serie B a 19 squadre, che cosa ne pensi? Ma in realtà sinceramente non mi ci sono fatto un'idea, credo che sia molto più importante pensare a noi stessi per l'arco del campionato Allora, pensiamo al Palermo, oramai fase di avvicinamento anche se qualche buongiorno manca Dopo la gara di oggi che indicazioni? Ma indicazioni, abbiamo ancora una settimana di tempo per continuare ad allenarci in vista della partita Sappiamo che sicuramente è una grande squadra però stiamo dimostrando di essere un'ottima squadra anche noi quindi andiamo avanti così e affronteremo il Palermo nel migliore dei modi Con un mostacchio nel motore? Questo sarà l'allenatore deciderlo però insomma sicuramente sarò a disposizione dell'allenatore dei miei compagni